Si prospettano notti in bianco per la registrazione o per l'ultimo ripasso per molti ragazzi. Domani al via gli esami di maturità. Sono 1217 gli studenti che nel VCO a partire da mercoledì saranno chiamati al maxi orale in 5 fasi di un'ora circa. Un esame d'emergenza con modalità inedite e niente scritte a causa dell'emergenza sanitaria. Ci saranno anche 25 privatristi, 34 le commissioni nel Verbano Cusio-Ossola e presso gli istituti scolastici sarà presente un operatore della Croce Rossa. Ci si presenterà a scuola 15 minuti prima dell'orario di convocazione per evitare assembramenti con la mascherina e con un solo accompagnatore. Obbligatoria l'autodichiarazione sullo stato di salute e attenzione al rispetto del distanziamento. Dopo aver sostenuto la prova bisognerà subito andare via. Gli unici membri esterni di quest'anno sono i presidenti di commissione. Intanto al via la campagna di sensibilizzazione della polizia di stato con scuola.net contro le fake news in occasione della maturità. Se quest'anno non ci saranno le fughe di notizie legate alle tracce d'esame il pericolo bufale è sempre in agguato anche per l'assoluta novità della situazione. La campagna utilizzi il linguaggio dei giovani con lo youtuber Nicolais e si concentra proprio sulle misure sociosanitarie per fare chiarezza e favorire la serenità dei maturandi in un momento per loro molto importante. Ad esempio lo studente potrà abbassare la mascherina durante il colloquio visto che sarà da almeno due metri dai presenti in aula. Niente misurazione della febbre sarà sufficiente l'autocertificazione. Non sono obbligatori i guanti, basterà igienizzare frequentemente le mani con il gel messo a disposizione dall'istituto.